Alle startup serve esperienza e l'esperienza non si può comprare. Questo era il messaggio del mio ultimo video che ha raccolto tantissimi commenti. Ve ne lascio un paio che mi hanno particolarmente incuriosito. Il primo di Carlo Morgantini, un amico che vive in Silicon Valley e ora ha avviato la propria startup, dopo aver lavorato in tante aziende, tra cui Zynga, che scherzando e non scherzando diceva che di Mark Zuckerberg al mondo ce n'è uno solo, al massimo due. Il secondo non credo sia Matteo Achilli. Il messaggio è che è difficile a 21 anni far partire una startup che diventa un impero. Quando succede sono dei casi, non la regola. Quindi bisogna avere esperienza e l'esperienza purtroppo si fa in un unico modo, un'esperienza in un modo molto poco elegante, si può dire che l'esperienza si accumula sulla strada. Esiste solo il provarci. Questo è un altro bel commento che è emerso dalla rete e questo è il messaggio che vi lascio. Volete fare startup? Benissimo, provateci, riprovateci, riprovateci, perché la prima strada difficilmente sarà quel buono. Grazie a tutti.